In questi ultimi anni la Festa della Musica, che viene solitamente celebrata il 21 giugno, ha avuto un sapore particolare, un senso di mancanza dovuto alle tante restrizioni causate dalla pandemia di coronavirus. Come sappiamo è stato difficile incontrarsi per fare concerti o per altre iniziative di tipo musicale. Queste mancanze si sono aggiunte alle tante altre mancanze che siamo stati costretti a subire in questi tempi così complicati che segneranno sicuramente uno spartiacque nella nostra esistenza per tutti gli anni a venire. Abbiamo dovuto rinunciare a tanto, forse a troppo. Eppure, specie per coloro che sono musicisti, non sarà male fare una meta riflessione sul senso della festa, perché per noi non è in fondo necessario un giorno da dedicare alla musica quando essa occupa o dovrebbe occupare parte delle nostre giornate per tutto l'anno. Dovremmo riflettere su quello che la musica ci chiede in termini di impegno e applicazione, ma anche quello che ci significa. Ho l'impressione che per alcuni la musica chieda molto, ma in cambio non dia altrettanto. E questo non lo dico giudicando il livello tecnico di certe esecuzioni o le prestazioni nei concerti, cosa di cui non mi importa molto. Ma questo si vede nella profondità di certe persone che sembrano non riempite dalla sapienza musicale, ma quasi svuotate, quasi in preda a patologie psicologiche che meriterebbero un'attenta valutazione in sede clinica. La musica può elevare, ma può anche corrompere. Questo ce lo dice la storia, ma anche l'esperienza quotidiana. Non è sempre facile mantenere un equilibrio, perché la musica a certi livelli di consapevolezza esige molto. Credo che i musicisti dovrebbero riflettere su quanto danno e ricevono dalla musica, come la stessa contribuisce a farci persone migliori, nel senso di più consapevoli e più capaci di giottare uno sguardo dentro noi stessi. La musica non dovrebbe essere un mezzo per sfogare frustrazioni, gelosie, invidie, come spesso è. La tentazione esiste per tutti, nessuno ne sente. Sarebbe puerile pensare che non esistano ingiustizie, che non ci sono persone che occupano posizioni che magari non meritano. Tutto questo esiste e fa male, fa soffrire. Eppure dobbiamo cercare di non ridurre la nostra vita musicale a questo o rischiamo di imbruttirci, come accadde a Gollum nel Signore degli Anelli, che era sfigurato dalla sua brama per l'anello, per il potere. Cerchiamo di guardare oltre le miserie umane e ringraziamo Dio per questo dono prezioso della musica, un dono che può contribuire a dare un senso più alto alla fatica di vivere.